Potrei dirti che la cosa più importante della vita è l'amore, ma non ti ho dato molti esempi per dimostrartelo. Lo scoprirai da sola e sarà bellissimo, ma sarà anche un percorso difficile. Forse non lo sai ancora, ma c'è una cosa che risulta chiara vedendoti. Il tuo coraggio, Giulia, ed è una cosa che amo di te. Credici perché non ti farà mai del male. Ti darà forza quando ti sentirai sola, perché il coraggio mi ha tenuto in piedi per tutti questi anni ed è ciò che mi porterà avanti fino in fondo, nel futuro. Grazie. 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 Grazie.